Non poteva mancare la cantina sociale di Solopaca che da sempre è partner ship della Kermess. Da 40 anni che si svolge questa bellissima manifestazione sul territorio, la cantina è sempre a fianco agli organizzatori. Anche quest'anno apriamo la Kermess con un convegno che teniamo in cantina, il 7, un convegno sulla cooperazione. Poi ci sarà l'organizzazione del percorso del gusto 8, 9 e 10 di settembre che abbiamo realizzato insieme all'associazione commercianti di Solopaca. In questo momento noi abbiamo invitato tutte le aziende vitiminicolo perché è un bel momento di confronto con il territorio, con le aziende che producono vino sul territorio. Oltre a questo momento istituzionale, diciamo un po' più dove si conoscono le aziende, ci saranno anche momenti ludici all'interno di questo percorso dove ci sarà cibo, musica, del lounge bar, dei momenti per poter socializzare.